buonasera caso dopo tutti i malacombassi stamattina dell'agenzia viaggi l'agenzia viaggi ma perché quale malacombassi sembri caparra sai perché io ho organizzato tutto ho spesso chiesto ma cosa hai organizzato? ho 3-4 mila euro di viaggio e quindi tra poco noi in live su facebook vi sveleremo le date del nostro viaggio da 3 mila 4 mila euro ma perché per tirare la vanetta ci vuole 3 mila 4 mila euro un viaggio da 100 euro ma 100 euro per un mese? la posso accompagnare dice qua la villa di belpasso cp 100 euro ma che c'entra a belpasso? vabbè comunque a tra poco su facebook alle ore 22 vi sveleremo la meta e anche quanto è costata tutte cose vi dirò scelto perché poi alla fine povero illuso alla fine l'ho organizzato io il signore è l'assassirico lei lo deve organizzare con me scelto illuso! ha tra poco 22 facebook